Mi chiamo Yuri. Yuri Nikolaevich Vavilov. Sono nato il 6 febbraio 1928. Sono morto il 18 aprile 2018. La mia vita è stata come tutte le altre. Sì, proprio come tutte le altre. In una cosa, però la mia vita è stata davvero speciale. Io ho avuto un padre. Sì, lo so, tutti hanno avuto un padre e anche una madre. Che cosa c'è di così speciale? Di speciale c'è il nome. Perché mio padre era Nikolai Ivanovich Vavilov. E Nikolai Ivanovich Vavilov non era un uomo. Lui era una strada. Una di quelle strade che percorri senza sapere dove vanno a finire. Una di quelle strade che diventano sentieri e salgono e si inerpicano. Fin dove il fiato si spezza insieme al ghiaccio sotto i piedi. Dove l'aria è dura, graffia le narici e la gola. Non riesce a entrare e non vuole uscire. Ma Nikolai era più di una strada. Lui era un fiume in piena, popolato di coccodrilli, piragna e i popotami fermi nelle anse della rima. Nikolai era un mercato di spezie, un frastuono di voci urlate, milancio arrugginite, sacchi di juta, sterco di cammello e ombre di palme sopra i tetti piatti con le stuoie stese ad asciugare. Nikolai era il vento autunnale della tondra, era il frimire delle cicale nella foresta amazzonica, dopo quel silenzio di animali che cala insieme al muro della pioggia. Nikolai era lenti passi di muro in Kazakistan, con ingroppa sacche piene di libri, tacuini, barometri, vasi di vetro che fanno da metronomo al cammino. Ma Nikolai era anche un posto vuoto a capotavola. Era un cuscino del letto senza odore, era cartoline dall'aldilà del portone e a volte passi nel corridoio verso la porta di camera mia. Un conato di battiti troppo forte da tenere in petto, era il mio cuore che saliva in gola quando finalmente, finalmente, finalmente tornava a casa. E allora io appoggiavo l'orecchio per terra e... arriva, 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 sono sicuro questi non sono i passi della mamma e non è neanche lo zio Sergei né la zia Lidia e non è nemmeno la vicina di casa che viene a chiedere un po' di zucchero. Sono sicuro, questi sono i suoi passi, questa volta è lui. Me l'aveva insegnato lui ad ascoltare, perché tra i tanti doni che a Nikolai gli erano stati messi in culla c'era anche quello del silenzio e chi sa ascoltare impara e chi impara sa anche raccontare. E cosa ascolti papà? Ascolto cosa c'è nell'altro mondo. E adesso che cosa senti? Sento i passi della Baba Yaga che arriva. Non vorrei mica farti trovare sveglio eh. Biggie, Biggie Spaziel. Corri a letto. E così mi ero abituato anch'io da bambino ad appoggiare l'orecchio sul pavimento di casa nostra, a Leningrado, al numero 13, tra la prospettiva Gnieschi e via Gogol. E appoggiavo l'orecchio per terra per sentire cosa succedeva in tutti quei mondi in cui lui spariva per intere stagioni. Per sentire se stava andando ancora avanti, via, lontano da me. O se aveva finalmente girato le spalle a quella sua nuova, fantastica avventura e stava tornando indietro verso casa. Appoggiavo l'orecchio per ascoltare i suoi passi là dove era, in mezzo ai campi di segale, di orzo, di avena, di grano. E per poi sentirlo improvvisamente camminare verso la porta chiusa di camera mia, con quel sorriso largo sotto i baffi neri.